Ristorante Il Cigno è una location del tutto esclusiva per celebrare il vostro giorno più importante in un contesto elegante e romantico, grazie alla sua posizione di fronte al mare e degustando il meglio della cucina nazionale ed internazionale. Ristorante Il Cigno è una location completa dove sarà possibile festeggiare il proprio matrimonio in ogni periodo dell'anno. Nella grande sala interna potrete allestire eleganti banchetti nei mesi invernali, circondati da un'atmosfera calda e intima. All'esterno potrete ospitare il vostro banchetto sulla terrazza o negli stabilimenti balneari appartenenti al ristorante, usufruendo anche della spiaggia privata per i momenti più emozionanti del vostro grande giorno. Lo staff del ristorante Il Cigno vi attenderà con cordialità ed esperienza per fornirvi il meglio dei servizi, sia nella preparazione del vostro matrimonio che durante il grande giorno. La cucina del ristorante Il Cigno vi offre una vasta scelta di gustosissimi piatti che potrete scegliere per la creazione di un menù personalizzato che ripropone il meglio della cucina locale, nazionale e internazionale. Ristorante Il Cigno è il luogo dove ogni vostro desiderio di nozze si trasformerà in realtà. Ristorante Il Cigno